Ok, vi sto chiedendo qualcosa di surreale adesso, però dovete fidarvi di me. Quando sono arrivata qua, volevo scoprire la verità su mia madre. Volevo sapere se almeno lei mi volesse bene. E poi ho capito una cosa, che non è importante essere amati, è importante amare. Ed è una cosa che ho capito con voi, amando voi. Pensa se non ci amavi. Ok. Vi chiedo solo un'ultima possibilità.